e allora e allora ma la balada è troppo pronta se te che ti sei abituato con quella perché le nostre cosa lavora è un centimetro tutto il giro questo fa niente e spingi indietro dai andiamo andiamo che è a posto non andare a casa andiamo che non gli fa un cazzo su vai oh la l'aveva solo in usato non è mica che l'ha leccato cioè poi il cane dell'antonio anche se la tua anche il mio conosce la casa non c'è paura perché cade la caramella in terra la crema la crema no la precisa eh hai visto la carta nella leva del corso ci sta da dio esatto a posto